Gente buona, modesta, generosa. Io che pensavo di essere oramai terribilmente solo. Sentì di aver acquistato una nuova famiglia, una grossa famiglia bisognevole d'aiuto. Con queste parole Adolfo Porri Pastorel ha iniziato il suo percorso di sindaco qui a Castel San Pietro Romano. Lui è il sindaco della ricostruzione. Con questo museo noi vogliamo celebrare il suo operato. Porri ci ha lasciato anche una testimonianza della sua arte fotografica che noi qui all'interno di questo museo abbiamo raccolto. Abbiamo creato un archivio diffuso perché tutti gli abitanti hanno una foto di Porri fatta da Porri. Ma abbiamo qui raccolto anche i cimeli della tradizione filmica, quindi di pane, amore e fantasia soprattutto. Una collezione di ciò che è stato ritrovato durante gli scavi della Rocca dei Colonna di Castel San Pietro Romano. Il museo diffuso di Castel San Pietro Romano ha sempre avuto un occhio di riguardo per i suoi piccoli visitatori. Questa stanza è la stanza della realtà aumentata dove loro possono, e non soltanto loro, vedere la realtà aumentata della Rocca dei Colonna. In autunno stiamo preparando una serie di laboratori gratuiti, di presentazioni di libri proprio per bambini sulla storia di Castel San Pietro Romano e una importante pubblicazione scientifica sugli scavi e sui risultati degli studi della Rocca dei Colonna. Quindi vi aspettiamo nei prossimi giorni qui al museo diffuso di Castel San Pietro Romano. Grazie. 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 Grazie.